E' stato presentato il Master di Primo Livello Economia e Management delle imprese cooperative, nato dalla collaborazione tra Lega Coop Abruzzo e Università d'Annunzio Chieti-Pescara, con il sostegno di CoopFund. Il Master ha lo scopo di formare la figura professionale del manager delle imprese cooperative, capace di condurle a un'alta competenza professionale, in grado di guidarle verso percorsi innovativi e di sostenibilità. Come nasce questa iniziativa? Il docente dell'Università d'Annunzio, nonché coordinatore del Master, Antonio Gitto. Il Master è nato appunto dalla collaborazione che abbiamo con Lega Coop Abruzzo e su impulso della Lega Coop Abruzzo che ha chiesto all'Università di organizzare un Master, ovviamente rivolto prevalentemente ai giovani, ma non soltanto, che formasse delle figure professionali che possano gestire le società cooperative in maniera manageriale come i tempi di oggi richiedono. Ovviamente le imprese cooperative sono molto particolari, sono molto attente per esempio al tema della sostenibilità, che è uno dei temi nell'agenda di oggi, ed è uno dei temi perché non soltanto dobbiamo avere maggior rispetto per l'ambiente, e soprattutto sfruttare al meglio le risorse di cui disponiamo. Chi può partecipare a questo Master e quando scaderà il bando? Il bando è stato pubblicato il 27 febbraio, rimarrà adesso affisso per 30 giorni, poi procederemo alle selezioni dei candidati e verosimilmente per metà aprile dovremmo partire con questo corso. Il presidente Lega Coop Abruzzo, Luca Mazzali. In questi anni abbiamo assistito ad una importante ripresa del mondo cooperativo nella nostra regione. Le nostre cooperative hanno riacquistato spazi legati alla presenza su territori importanti, stanno crescendo perché è un modello che ha dimostrato in questi anni di crisi di avere gli anticorpi per gestire i momenti di difficoltà, avere degli ammortizzatori di socialità interna nelle nostre cooperative che consentano di assorbire i momenti di difficoltà e rilanciare il progetto quando riparte l'economia. Siamo alla ricerca di nuovi professionisti che vogliano misurarsi con la nostra realtà lavorativa.